generalmente mi capita di arrivare al palco prima degli altri magari a volte anche un po troppo prima può sembrare ridicolo però è un... probabilmente è un modo anche per cominciare a ragionare non mi piace stare a casa a pensarci preferisco pensarci quando sono vicino al palco e da lì comincio a capire che tipo di serata sarà se c'è qualcosa da dire oppure anche semplicemente mi metto a fare cose del tutto idioti tipo ascoltare musica progressive degli anni settanta che non serve a niente per il concerto però è un modo anche quello per così per perdersi disperdersi alla fine ritrovarsi capito poi d'altronde il viaggiatore non deve essere a piombo già proprio per antonomasia